Nome. Ilaria. Cognome. Ferrara. Sono Simone Laurora. Ho 20 anni. Simpatica. Allegra. Spontanea. Logorroica. Determinata. Votatemi perché sono frizzante, solare e vi farò divertire. Ci vediamo su iLikeTV. Vuoi conoscere nuovi amici come loro? Scarica l'app gratuita casting di iLikeTV. Entrerai a far parte della nostra community e potrai votare i tuoi preferiti. Scegli tu il nuovo volto di iLikeTV. Tu hai scaricato l'app? Hai vinto? Non è che proprio mi ero preparato un monologo, diciamo sono venuto qua per parlarvi delle donne, ecco. Loro sono Martina Amenta e Antonella Antonino. Martina. Martina. Antonella. Zazu, tu hai detto che le iene sono delle rognose, schifose, stupide e bestiacce. Fate un applauso, grazie. Oh, qua c'abbiamo il pubblico live.